Dalle l'orologio. Cosa? L'orologio da tasca. È d'argento. Appunto. La sua famiglia ne avrà bisogno. E adesso l'anello. Me l'aveva regalato mio padre. Grazie a te. I suoi figli non hanno più un padre. Prendiamo anche quel cavallo. Ma come faccio a tornare indietro? Potrai tenere le scarpe. Prendiamo anche quel cavallo. Jack, le diamo noi un passaggio. No, grazie. Grazie. Perché è arrabbiato? Gli hai salvato la vita. Credo che non gli piace sentirsi in debito. Hai salvato anche molte altre vite. Per fortuna non hanno chiamato l'esercito. Altrimenti... Lo hanno chiamato. Chi vuoi dire? Il giorno dopo che siate partiti, hanno spedito un telegramma all'esercito. Solo che non è mai arrivato. Sì, ho tagliato i fili del telegrafo. Che cosa? Mi sono arrampicato e li ho tagliati. Bella mossa, bravi. Sei salito lassù. Ma avresti potuto cadere, poi contro la legge. Tu avresti fatto la stessa cosa. Ha ragione. I sono a amicci. Ciao! Ciao!